Buongiorno, bentrovati. Buongiorno, bentrovati. Andiamo per ordine, iniziamo con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara, il titolo di apertura non riguarda però la politica, bensì le nuove regole, vedete, per bar e ristoranti, previsti solo tre tipi di strutture esterne, procedure più semplici per i permessi. E poi in alto ovviamente la politica, Salvini, Berlusconi e Meloni, fidatevi di Marsilio presidente, ieri affollatissima conferenza stampa dei tre leader che vedete nella foto con il candidato presidente Marco Marsilio al comune di Pescara. E poi Legnini, i miei rivali, una bolla di propaganda. E poi 5 Stelle, Sara Marcozzi, gran finale con Di Maio. Ci crediamo e dunque c'è fiducia anche in casa del 5 Stelle. Torniamo a Pescara, cambiando decisamente pagina, a folla i funerali del titolare della palestra, inchino omaggio dei ragazzi al maestro Maurizio D'Aloia, scomparso prematuramente a 42 anni. Vediamo anche le cronache, sempre da Pescara, aria di risulta 3.500 no al piano del comune. E poi Montesilvano, Pitbull, abbattuto due giorni fa, mio marito salvato dai vigili. E poi ancora Pescara in Piazza Italia, oggi la protesta dei disabili per le pensioni. Vediamo anche il titolo che si trova nella parte bassa della pagina, la cronaca giudiziaria. Il PM, Mucciante, uccise con crudeltà, chiusa l'inchiesta sull'omicidio del vicino di casa in via Pian delle Mele. Poi parliamo anche di sport. Memushai, giocatore del Pescara, raggiunge un traguardo importante in carriera, 300 partite. E proprio l'albanese sarà uno dei protagonisti della sfida di Foggia. Pescara che giocherà domenica allo Zaccheria. Brugman in dubbio, ma dovrebbe recuperare anche se scendere in campo non al 100%. In caso di forfè del giocatore uruguaiano è pronto Bruno. Vediamo anche la prossima pagina del centro, che è quella di Teramo. Prima pagina dell'edizione di Teramo del Quotidiano Abruzzese. Donna muore in sala operatoria, ospedale Mazzini. La vittima aveva 43 anni ed era diarsita, già eseguita. L'autopsia e poi la ragazza di Tortoreto, ricorderete, precipitata dal viadotto dell'autostrada 14. I genitori di Giulia, il giudice, dicono, non archivi il caso. Vediamo anche le altre notizie. Da Teramo e Provincia, Scuola di Silvi, Spina nel Pesce della Menza ed è polemica. E poi Gran Sasso Teramano, Prati di Tivo, riparte con gli studenti. E poi Teramo, un velarium, coprirà il teatro romano. Vediamo anche una notizia di giudiziari. Ha peculato, assolto, impiegato comunale. Nereto era accusato di aver fatto il pieno alla sua auto con la carta dell'ente. E poi il calcio, il Teramo Serie C, sindrome da rimonta. Ne ha subite sette, tante le rimonte subite dai biancorossi. Quanti i punti persi per strada. Teramo atteso dalla gara di sabato con il Rimini. Vediamo la prima pagina del centro di Chieti. Lanciano, Vasto, scoperti i furbetti della pensione, false residenze nel Chietino per intascare i soldi. Due anziani di 85 e 86 anni a processo. E poi vedete a Tessa, boato sveglia il quartiere, bomba sotto il pavimento, bar devastato nella notte. Vediamo ancora Chieti, sosta selvaggia, parte la guerra agli incivili. Poi Ortona, riserve naturali, via al progetto per il turismo. E poi Lanciano, nuovo corso, la pulizia, costa 36 mila euro. Torniamo alla cronaca, assalto alla gioielleria con le pistole. San Salvo, quattro banditi fanno irruzione a Sarnioro. Cliente incinta, colta da malore. Vediamo anche il calcio, il calcio regionale di eccellenza. Chieti, ora andiamo in D, Lucarelli, tecnico dei Norveldi, rialza la squadra dopo la sconfitta in Coppa Italia. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro. Nonna e bimba rapite da un ladro, fuga sull'auto rubata, terrore per un insegnante di Avezzano e la nipotina a bordo. Addio al dottor Sergio Placidi, siamo all'Aquila, pioniere di neonatologia all'ospedale dell'Aquila, era anche vicepresidente dell'Ordine dei Medici. Vediamo la cronaca, restiamo sempre nel capoluogo di regione. Donna travolta sulle strisce in via Pianella e poi Avezzano, pillole e fiale per il doping in 48 nei guai. E poi Sulmona, confettificio abusivo chiuso dal NAS. Vediamo ancora l'Aquila, furbetti del terremoto, maxi sequestro, revocati oltre 2 milioni concessi per riparare le case inagibili, 20 indagati. Vediamo anche in basso, sorelle di Julio, volley nel DNA, Chiara e Isabella si raccontano gli esordi nella Marsica e il salto nell'Olimpo della Serie A italiana di pallavolo femminile. La prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, torneremo i primi del sud, la conferenza evento di Berlusconi, Salvini e Meloni. Lunedì saremo i vincitori, Legnini solo una bolla di propaganda, dopo le elezioni Capi e Big spariranno tutti, ha detto Legnini. Vediamo anche altre notizie, la cronaca, esplode una bomba devastato, Barra ad Atessa, carabinieri a caccia di due persone. Poi Pescara, picco di ricoveri per l'influenza, reparti al collasso. Vediamo anche l'articolo di spalla, Sevel e gli operai donano 2 tonnellate di alimenti. In alto l'Aquila, 10 anni dopo il terremoto, sequestrati i beni ai furbetti. E poi Teramo, altro esperimento sotto il Gran Sasso, torna l'allarme per il bacino idrico. E poi Serie B, e dunque il calcio, Pescara-Campagnaro ora alla difesa, pensaci tu, perché come dicevamo Pescara domenica giocherà a Foggia, non ci saranno gli squalificati Gravion e Del Grosso e al posto di Gravion giocherà l'esperto difensore argentino 38enne. La prima pagina del quotidiano, la città, fattoria dell'Istituto Zoprofilattico verso l'Appalto, 25 offerte per costruire il centro di ricerca da 17 milioni a colle atterrato. E poi la politica, vedete in alto, Legnini chiude al comunale, chiede il voto per D'Amico. Andiamo poi a centro pagina, Roseto degli Abruzzi. Ecco il nuovo DSB svelato in anteprima, progetto e caratteristiche. Lasciamo dunque i quotidiani abruzzesi, le prime pagine di centro messaggero e quotidiano la città. Vediamo invece le prime pagine dell'edicola nazionale, dei giornali che troverete oggi appunto in edicola. Partiamo dal quotidiano La Repubblica in primo piano, le polemiche tra Francia e Italia. Vedete Francia e Italia, rottura totale, il colle serve responsabilità, il Presidente Mattarella sta mediando tra Italia e Francia. Parigi richiama l'ambasciatore, l'Unione Europea conferma gelata del PIL, crollo in borsa, sale lo spread. Dunque quella di ieri non è stata una giornata positiva per il governo. E poi il dossier dalla Libia a Maduro, la politica estera impazzita in sei mesi. Da Repubblica al Corriere della Sera il titolo è lo stesso. Francia e Italia il giorno della crisi, il Premier Conte stupito, Moavero ricucire l'ira dell'Eliseo, il leader Movimento 5 Stelle, ovvero Di Maio, incita all'insurrezione nel nostro Paese. E poi vedete a centro pagina, scatti, gli otto fotografi italiani selezionati per i Sony Awards. Vedete questa foto che è una delle foto che ha avuto più successo. Di spalla vediamo un'altra notizia. Franzoni libera, vorrei far capire che sono innocente. Anna Maria Franzoni è tornata in libertà. Ricorderete la vicenda dolorosa del delitto di Cogne. Andiamo avanti, la stampa di Torino, l'ira di Macron superato il limite, il primo ministro francese attacca l'Italia e dunque è polemica a distanza. E poi Franzoni libera dopo 11 anni, non ho ucciso Samuele. Andiamo a vedere anche il fatto quotidiano, Tav, la bufola dei tir, il traffico più scarso è fra Torino e Lione. E poi in alto, anziché Salvini, il Movimento 5 Stelle vuole processare Morra. E poi di fianco, vedete, Macron contro l'Italia, ma scorda i suoi insulti. Vediamo anche il quotidiano libero. In alto, Italia e Francia ai ferri corti. Poi a centropagina Di Maio, Conte e Toninelli, ora recitano il mea culpa. Vediamo anche il manifesto. Teatro Eliseo, questo è il titolo del giornale Oggi in Edicola. In seguito agli attacchi senza precedenti del governo italiano, il presidente francese mostra i muscoli e richiama l'ambasciatore il colpo di scena in vista dello scontro elettorale europeo. Al cuore della crisi, il recento abbraccio dei 5 Stelle con i gilet gialli, nemici giurati di Macron. Vediamo anche il tempo di Roma. Saldi PD in vendita pure i camper. E poi in alto, le bestie, abbiamo sparato a casa il racconto dell'interrogatorio davanti ai magistrati dei due giovani che sono accusati di aver ferito gravemente il nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo. Vediamo ancora il messaggero, la prima pagina nazionale. Parigi richiama l'ambasciatore, ritorno della Francia dopo l'incontro di Di Maio con i gilet gialli. E poi delitto di Cogna, la mamma di Samuele ha scontato la condanna. E poi ancora, torniamo alla vicenda di Roma della sparatoria di qualche giorno fa. Manuel riconosce chi gli ha sparato, perché l'ha fatto lo stupore davanti alle foto dei suoi sicari. Poi vede Rosolino, ce la faccio, io non mollo. Vediamo il mattino di Napoli, Francia all'allarme del Colle, incontro con i gilet gialli. L'Eliseo richiama l'ambasciatore Mattarella, presidente della Repubblica, salvaguardare l'amicizia, dice Mattarella. Siamo ad avvenire quasi amici. Il governo francese richiama per protesta l'ambasciatore troppi attacchi. Mattarella preservare la nostra alleanza, corteo di gilet gialli a Sanremo. Vediamo anche il quotidiano La Verità, Macron disperato, dichiara guerra all'Italia. E poi riappare il centrodestra, ma in Abruzzo. E questo è un titolo che riguarda proprio la conferenza stampa di ieri pomeriggio a Pescara. Dei tre leader di centrodestra che sono tornati uniti proprio in occasione della conferenza stampa che si è tenuta per le elezioni regionali di domenica prossima. Meloni, Berlusconi e Salvini insieme dopo molti mesi per lanciare il candidato governatore e strappare la regione al PD. Però il vicepremiere mette subito in chiaro, ovvero Salvini, alleanza locale. Il governo non rischia, ha detto Salvini. Il sole 24 ore, TAV, la rinuncia, costa 4 miliardi. Queste le stime del sole 24 ore. Poi la polemica tra Italia e Francia. Ora basta, la Francia richiama l'ambasciatore. Mattarella preoccupato, dice e chiede di ristabilire la fiducia. E poi un altro titolo importante. Italia sotto il tiro dell'Unione Europea, conti non sostenibili, mercati giù, borsa che ieri ha chiuso con un meno 2,6%. E lasciamo il sole 24 ore che era l'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale che abbiamo preso in esame. Torniamo ai giornali abruzzesi. Ripartiamo dal centro, da pagina 2, ovviamente dalla politica in primo piano. Come vi dicevo, domenica si andrà al voto. Domani si chiuderà, anzi questa sera a mezzanotte, si chiuderà la campagna elettorale. Domani ci sarà il silenzio elettorale della vigilia. Domenica si apriranno le urne. Marsiglio dice grazie a Salvini e alla Lega. Ieri affollatissima conferenza stampa dei tre leader Salvini, Berlusconi e Meloni a Pescara. Li vedete sorridenti con Marco Marsiglio, il candidato presidente. Oggi nel corso del nostro telegiornale parleremo ampiamente di questa conferenza stampa che si è tenuta ieri in comune a Pescara. Ma il leader del carroccio, Gela gli alleati, il modello Abruzzo, ribattezzato patto della Rosticino, non governerà l'Italia. Ieri c'è stata questa conferenza, ma prima della conferenza dei Pescara, Salvini era stato in Abruzzo anche nelle ore precedenti, soprattutto aveva partecipato ad un incontro elettorale a Pianella. Allora possiamo andare a vedere il servizio proprio con le dichiarazioni del ministro dell'Interno. Un commento sull'accoglienza che ha avuto in questi giorni in Abruzzo con questo flash mob, anche delle mani che l'hanno un po' protestata. Ma l'arte è arte, a me interessano le piazze strapiene, emozionanti, Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Paesi, Vallate, bello. Penso che domenica ci sarà una bella e grande sorpresa, voglia di cambiamento, concretezza, onestà, Lega. Di che cosa ha bisogno questo Abruzzo e che apporto potete dare voi come Lega dall'11 di febbraio? Sanità, riaprire gli ospedali che la sinistra ha chiuso, sicurezza, e di questo mi sto occupando personalmente io, meno immigrati e più poliziotti, trasporti, investire su strade e ferrovie, sostegno all'agricoltura, soprattutto nelle zone interne massacrata dalle regole europee e dall'assenza della regione. Quindi abbiamo le idee ben chiare in testa. Per chi parla di una Lega non proprio attiva su questa campagna elettorale? Penso che di più non avremmo potuto fare, che un segretario di un movimento, nonché ministro dell'interno, sia venuto tre, quattro, cinque, sei, sette volte e si sia impegnato a tornare anche dopo il voto, che è la cosa più importante, mi ha riempito di gioia e di emozioni e d'orgoglio. E' piazza piena, avete visto nel servizio curato da Stefano Recanati, anche a Pianella per il comizio di Matteo Salvini. Vediamo anche cosa succede in casa di Casa Pound, gran finale di Casa Pound, vedete Flaiani, il candidato presidente, oggi chiude all'Aquila la sua campagna elettorale. E poi gran finale del centrodestra, Marsiglio comizio con Meloni, in Piazza Muzzi a Pescara. E vediamo invece quello che accade in Casa dei Cinque Stelle. Marcozzi, il mio, è un programma vero, la candidata del Movimento Cinque Stelle, tra le prime azioni un fondo di garanzia per le imprese, un nuovo piano per la sanità abruzzese. Il gran finale ci sarà al Palandim Bartin, con la presenza del vicepremier Luigi Di Maio. L'Abruzzo alle urne, gli errori da evitare in cabina elettorale, vedete i facsimili delle schede che troverete, troveremo tutti chi andrà a votare. Dunque in questa pagina si spiega come votare per evitare errori e dunque invalidare il voto. Siamo alla pagina, la cronaca d'Abruzzo, finanziaria regionale, i primi 30 anni, accesso al lavoro, gli obiettivi della Fira, oggi tavola rotonda all'auditorium Petruzzi, con l'economista Cottarelli, presidente Felizi. Siamo al servizio dell'Abruzzo, e poi zona economica speciale per aiutare le imprese, c'è l'ok della giunta regionale. Poi i giornalisti, serve una legge a tutela dell'editoria, lo chiedono i giornalisti abruzzesi, il sindacato dei giornalisti abruzzesi, che ha chiesto proprio un impegno ai candidati presidenti, proprio per una legge sull'editoria nella nostra regione. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara, bar e ristoranti, arrivano le nuove regole semplificate, le procedure per installare gazebo, sono ammessi solo tre tipi, multe fino a 500 euro, per chi non si adegua. Ancora, parco in centro e parcheggi, bocciati da 3.500 cittadini, ieri è scaduto il termine per presentare osservazioni al piano delle aree di risulta, tante le richieste di modifica dei commercianti, il Movimento 5 Stelle esulta e dice, è un successo. L'addio al titolare della palestra, ieri folla di ragazzi in lacrime, ai funerali di Maurizio D'Aloia, morto a 42 anni. Mucciante uccise il vicino con crudetà, il PM chiude l'inchiesta sul delitto di via Pian delle Mele, ma l'omicida affetto da disturbi psichici potrebbe essere prosciolto. Questo è il titolo di apertura di pagina 18. E parliamo ancora di cronaca giudiziaria, propaganda sul referendum, il GIP si riserva sull'ex presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e sulla richiesta di archiviazione del PM. Andiamo ancora avanti, la cronaca morsa da un cane al parco, una donna è finita in ospedale, il meticcio era al guinzaglio, e poi l'emergenza al porto di Pescara è iniziato il dragaggio. Elezioni, oggi grande chiusura a Pescara, torniamo a parlare ovviamente di politica perché non potrebbe essere diversamente considerando l'importante appuntamento elettorale di domenica, vedete la campagna dei candidati governatori si conclude tra feste, brindisi, degustazioni e comizi. Marcozzi apre il rush finale, tour solidale, Legnini in visita nei centri di accoglienza, al pala Giovanni Paolo II, Salvini indossa la maglietta e fa il pescarese. Vediamo ancora la cronaca di Pescara, in questo caso torniamo a parlare di cronaca, amore a 71 anni, donate le corne, e poi disabili in piazza per una pensione equa, oggi la protesta davanti alla prefettura di Pescara. Siamo a Montesilvano, il pitbull ucciso è polemica, non colpevolizzati i vigili hanno salvato mio marito, la moglie di uno dei passanti aggrediti, difende gli agenti che hanno sparato gli animalisti, sporgeremo denuncia per verificare eventuali responsabilità. Restiamo a Montesilvano, lavori in via Lazio dopo sei anni di stop, e poi un festival di street art, il sogno del consigliere Pompei, mentre lievitano le richieste. Tassa sui rifiuti, siamo a Città Sant'Angelo, sconti in arrivo per le famiglie. E poi, ma sulla differenziata solo promesse, c'è anche chi contesta, il consigliere del gruppo Siamo, Lucia Travaglini, in questo caso. Andiamo avanti, Francavilla, i danni delle mareggiate, erosione della regione sblocca i fondi, ci sono 270 mila euro mareggiate che hanno interessato, colpito tutta la nostra regione, da Martinsicuro fino al Vastese. Ancora Francavilla, Giovanna, oggi l'autopsia, acquisiti i referti del suo ricovero in ospedale. Andiamo a vedere anche la prossima pagina, siamo a Bussi, l'incontro con il Ministro dell'Interno, ieri Salvini in mattinata, è stato proprio nella cittadina, in provincia di Pescara. Ci spostiamo a Penne, Brioni, stato di agitazione e sciopero, sempre più tesi rapporti tra vertici aziendali e sindacati su flessibilità e futuro. E poi, Rigopiano, tre mezzi per purire la strada, la rabbia del Papa di una vittima della tragedia dell'hotel Rigopiano. Siamo a Chieti, assegni intascati, erogazioni fuori legge, scoperti furbetti della pensione sociale, due anziani di 86-85 anni si ritrovano a processo, sotto accusa false residenze nel Chietino per appropriarsi dei soldi. E poi vediamo ancora, lotta alle soste selvagge, pali anti-incivili, siamo sempre a Chieti, il comune di Chieti dichiara guerra a chi blocca le strade, scattano i divieti, installati 15 posti auto per i disabili. E poi in basso, vedete a fondo pagina, il Darwin Day, il WWF racconta l'evoluzione, il Museo Universitario, incontro con gli studenti del Liceo Masci per celebrare il grande scienziato, vedete nella foto, Luciano Di Tizio, il delegato abruzzese del WWF. Proseguiamo con la cronaca che ci porta a San Salvo per una rapina, torna la paura, assalto alla gioielleria con le pistole, quattro banditi fanno irruzione a Sarnioro e scappano con buste piene di gioielli, cliente incinta, colta da malore, e paura da tessa, attentato contro il bar, bomba, distrugge il locale, davvero un atto che fa tornare la paura nell'area a Frentana per quello che è accaduto proprio poche ore fa ad Atese. Allora possiamo andare a vedere il servizio su questo grave fatto di cronaca. E' stato un uomo incappucciato a posizionare l'ordigno sotto la pedana della veranda che poco dopo mezzanotte è saltata in aria con tutti gli infissi e il mobilio, secondo attentato al bar poker di Contrada Saletti di Atese a distanza di tre anni lungo la provinciale 119. Il boato ha svegliato i residenti oltre allo stesso titolare che dormiva in una delle camere al primo piano dell'edificio raggiunte dalle schegge che hanno frantumato i vetri di finestre e balconi. Non mi faccio intimidire ha dichiarato l'uomo ai cronisti sul posto. Ai carabinieri della compagnia di Atessa che indagano sull'accaduto l'esercente ha tuttavia riferito di non aver mai subito minacce. I militari stanno recuperando tracce del potente ordigno la cui deflagrazione è stata avvertita fino alla vicina Sevel. Le immagini filmate dalle telecamere della videosorveglianza mostrano un uomo incappucciato che dopo aver piazzato la bomba è fuggito in auto con un complice. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Casoli. Non si è sviluppato nessun incendio ma i pompieri hanno dovuto mettere in sicurezza l'area e abbattere parti pericolanti della struttura esterna al locale che non è stato danneggiato. Tant'è vero che l'attività ha riaperto solo con gli spazi interni alle 4 del mattino per la clientela della Val di Sangro. Ma sulle strade sono in arrivo i rinforzi più controlli con 10 carabinieri provenienti da Napoli e 4 poliziotti accolte le richieste dei sindaci e dei centri in provincia di Chieti. Siamo alla pagina di Teramo muore a 43 anni durante l'operazione un caso all'ospedale Mazzini Nadia De Profetis di Arsita era stata sottoposta ad intervento per l'astenosi del piloro ma ha avuto uno shock emorragico. Neuropsichiatria infantile in affanno arrivano i rinforzi anche perché un medico è in maternità. Lasciamo la sanità parliamo di turismo di turismo montano Prati di Tivo riparte con i ragazzi delle scuole mille alunni sulle piste per le elezioni di sci il gestore degli impianti abbiamo ripreso alla grande grazie anche alla presenza abbondante di neve. Cronaca giudiziaria siamo a Nereto sempre in provincia di Teramo peculato assolto un impiegato comunale il dipendente era accusato di aver rifornito di carburante sulla sua auto con la carta del lente e poi Tortoreto supera in allotto con un 6 vince 83 mila euro al nuovo gioco e poi 20 truffe agli anziani 4 Roma restati restano in silenzio davanti al giudice torniamo alla vicenda dolorosa della scomparsa della morte di Giulia di Sabatino i genitori chiedono di non archiviare il caso nuova udienza per la ragazza che tre anni fa è precipitata dal viadotto dell'autostrada a 14 siamo a Silvi spina nel pesce ammenza è polemica la minoranza ma la commissione controlla i cibi serviti a scuola replica l'assessore ci siamo attivati subito ad Atri sportello speciale per le lamentele sulle bollette Aca grande fresta a Palagiano per i cent'anni del commerciante atriano Antonio Marchione in basso Pineto aperto il geoparco del Vulcanello siamo all'Aquila in venti nel mirino furbetti del terremoto maxi sequestro revocati due milioni e mezzo e poi lutto nella sanità aquilana è morto Sergio Placidi era vicepresidente dell'ordine dei medici dell'Aquila chiuso laboratorio abusivo di confetti a Sulmona e in basso all'Aquila travolta sulle strisce davanti alla questura 84enne in ospedale siamo nella Marsica d'Avezzano shock in strada nonna e nipotina rapite dal ladro d'auto l'uomo fugge a folle velocità per le vie della capitale a bordo insegnante di Avezzano una bambina di 18 mesi caccia ad un incappucciato sequestro di farmaci proibiti 48 indagati nei guai tre uomini di Ovindoli e Pescara scovate migliaia di fiale e compresse per 250 mila euro ad Ortucchio madre e figlia terrorizzate da un orso le due donne barricate in casa il sindaco favoriti danni ingenti e allarme sociale siamo arrivati così allo sport ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano il messaggero lo facciamo partendo da pagina 2 ovviamente tornando all'Abruzzo alle urne alla cronaca politica ieri conferenza stampa in mattinata a Pescara nella sala consigliare del candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Legnini tanti big capi poi non li rivedrete più bolla propagandistica avversaria senza proporre alcun tema concreto ha detto Legnini a poche ore proprio dalla conferenza stampa che nella stessa sala consigliare del comune di Pescara nel pomeriggio hanno tenuto Berlusconi Salvini e Meloni ma noi andiamo ad ascoltare proprio le parole di Giovanni Legnini nella conferenza stampa che ha tenuto ieri mattina a Pescara Si sta animando in Abruzzo una politica propagandistica che cerca di deviare dal merito questa competizione elettorale i ministri sono venuti almeno 30 volte nella nostra regione perché sono preoccupati dalla forza del progetto che abbiamo messo in campo credo che la crisi politica che investe il governo giallo-verde è evidente e Lega e 5 Stelle proiettano in Abruzzo quello che è un conflitto insanabile che porterà a nuove elezioni dopo le europee è un vero e proprio giaccus a centro-destra e 5 Stelle quello di Giovanni Legnini che resta fiducioso sulla sua vittoria alle regionali di domenica prossima Lega e 5 Stelle litigano a Roma e proiettano sul loro campo di battaglia che è l'Abruzzo i loro conflitti maschera le divisioni enormi che ci sono nel centro-destra che loro provano a ricomporre occultando nascondendo qual è la posta in gioco in Abruzzo che chi farà il presidente se sarò io se sarà Marsiglio o se sarà la Marcozzi e non gli affari e le vicende dei partiti romani noi abbiamo presentato solo progetti concreti siamo portatori di un progetto forte affidabile credibile abbiamo incontrato decine di migliaia di cittadini abruzzesi cresce la fiducia cresce il sostegno per i nostri candidati e per la mia candidatura e siamo fiduciosi sulla vittoria finale se stanno sempre qui se sono venuti più di 30 volte se hanno impiegato quasi 50 giorni del tempo che avrebbero dovuto dedicare al governo agli interessi nazionali perché sono preoccupati e perché vogliono mettere in ombra la scelta di una candidatura quella del senatore Massilio che come noto appartiene alla destra romana a Roma è nato è cresciuto ha fatto politica e non si capisce perché possa essere proposto come possa guidare la nostra regione vediamo quello che accade nel Movimento 5 Stelle Di Maio Vice Premier sul blog gli assist alla Marcozzi ecco quello in cui crede il Movimento e poi vedete in basso i centristi chiudono la campagna elettorale con Sgarbi evento all'Aurum coordinato dall'urologo Raffaele Tenaglia più attenzione ha chiesto Sgarbi per la cultura l'Abruzzo alle urne questa regione ritornerà la prima del sud Berlusconi Salvini e la Meloni la conferenza evento di Pescara vedete le immagini con le foto in mattinata Salvini era stato a Bussi qui in Comune Rosso ma lo resterà soltanto fino a domenica Pescara bollette fantasma all'aca sotto accusa la società esterna richieste dimora per fatturazioni mai recapitate agli utenti l'azienda cancella le penalità e spera di risolvere il disservizio vicino assassinato con 38 coltellate il PM mucciante agì con crudeltà pitbull un'altra aggressione al parco di cocco influenza ultimo giro per il vaccino picco del contagio reparti affolatissimi all'ospedale Santo Spirito e poi la campagna per il referendum 2016 esposto di Sanctis da Alfonso gli SMS altra richiesta di archiviazione poi parliamo di finanza se ne parlerà oggi a Pescara alle 17 al Museo delle Genti d'Abruzzo nell'ambito di un convegno sui 30 anni della Fira la finanziaria regionale abruzzese ospite d'onore sarà l'economista Carlo Cottarelli ospite del Rotary vediamo ancora due notizie la prima che arriva dall'area vestina nuovo medico ortopedico penne riattiva il reparto e poi carrozzine determinate in piazza oggi a Pescara per le pensioni siamo all'Aquila scovati altri 20 furbetti sequestrati 2 milioni e mezzo di Euro call center Cretarola della Cisal situazione preoccupante via Pianella nuovo investimento donna in ospedale poi ultimi fuochi di campagna elettorale la Meloni da Forfè l'Iris fa il pieno allora possiamo fermarci per qualche attimo poi proseguiremo insieme la lettura dei quotidiani le altre pagine dell'inserto Abruzzo del messaggero le pagine del quotidiano della città poi chiuderemo con lo sport di nuovo in studio la seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine dell'Aquila dell'inserto Abruzzo del messaggero bando per il direttore Later tira dritto il commissario Gianvito Pappalepore replica al sindaco Biondi non ho alcuna intenzione di revocare l'avviso almeno per ora e sulle palazzine di Portaleoni si apre un altro fronte Pile per la nuova chiesa approvato il progetto e poi musica e teatro venerdì ricco di eventi all'Aquila e là dove prima c'era un manicomio e poi il centro vaccinazioni ora c'è vedete questa foto e questo articolo sull'ex centro vaccinazioni l'ex manicomio dell'Aquila mega contratto tra Telespazio e Grimaldi siamo ad Avezzano la stazione spaziale del Fugino fornirà per 5 milioni di euro i collegamenti satellitari alla flotta partenopea Avezzano tifo violento patteggiano due tifosi bianco-verdi ancora Avezzano rispunta l'antenna abissa paterno ed è polemica sul Mona gredì un poliziotto arrestato giovane padre e rivisondoli gli impegni di Marsilio per le aree montane vediamo Chieti da Milano alla Gran Bretagna fanno carriera i giovani teatini e tanti che hanno lasciato Chieti che oggi sono dei luminari in tanti settori al Marruccino siamo al teatro Siride Amaro con i parenti di Lello Arena e poi in basso Asle dai primari parte la diffida a Flacco sull'incarico le delibere sono a rischio nullità Febbo consigliere regionale uscente di Forza Italia dice danno senza precedenti e poi ex caserma Berardi di Chieti lunedì saranno consegnati i lavori bomba al bar poker un attentato abbiamo visto prima il servizio Ortona passeggiata orientale il verde locura Zoart e poi vasto assalto armato a Sarnioro del centro insieme caccia ai rapinatori andiamo a vedere anche la pagina di Teramo Gran Sasso esperimento bis un altro allarme per l'acqua i laboratori vorrebbero installare un acceleratore lineare di particelle Augusto De Santis del forum H2O non sono esclusi a priori dei rischi Giulia caduta dalla ponte dell'autostrada a Tortoreto la madre chiede di non archiviare l'inchiesta elezioni 86 riunione dei presidenti e poi più lampioni e telecamere contro la delinquenza a Teramo credito processo per usura bancaria depositata la super perizia siamo alla pagina della provincia di Teramo Giulia Nova basta insulti la maglia non è del Real parla la ragazza che ha dato la casacca giallorossa Salvini mareggiata in Val Vibrata sulla costa in arrivo i fondi e poi Tortoreto gioca gli stessi numeri e vince 84 mila euro centrato il 6 Giulia Nova prende a calcio il pullman 54enne nei guai Nereto nessun peculato dipendente assolto infine in Val Vibrata Donenio contro i parroci mi boigottano siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano la città ripartiamo da pagina 2 la politica Berlusconi e Salvini seduti ai lati opposti al centro Lameloni ieri la conferenza stampa molto affollata ieri pomeriggio a Palazzo di Città Pescara e poi San Salvo rapinano la gioielleria armati di pistole spranghe di ferro Teramo la nuova fattoria dell'istituto zoo profilattico in fase di appalto 25 imprese hanno presentato un'offerta per realizzare 17 milioni di lavori del Master Plan e poi Campo Boario vedete in basso entro un mese l'accordo sull'ex mercato all'ingrosso il vescovo della diocesi di Teramoatri riceve il sigillo dell'Ateneo di Bari Monsignor Leuzzi accompagnato dai supporter Teramani ha tenuto una lezione sulla chiesa e il cambiamento Mosciano Giuliano Roseto nella ZES la regione ieri ha approvato la proposta del piano di sviluppo strategico presentata dai comuni che entrano proprio nella zona economica speciale Legnini chiude al comunale con l'assist di Dalberto il candidato governatore del centro-sinistra riunisce liste candidati prima del voto di domenica e Quaresimale chiude stasera al Green Park il candidato della Lega lancia il suo appello agli elettori per domenica e poi compare per chiedere di votare d'amico Brindisi finale al Madre Natura per l'ex rettore che accoglie Legnini e cita la sfidante di Trump e dunque siamo davvero alle ultime battute della campagna elettorale torniamo a parlare di cronaca torniamo a Teramo le telecamere del comune saranno in rete alla riunione del tavolo per la sicurezza in prefettura discussi i recenti episodi di microcriminalità in città la passionaccia per la politica del fare dopo 11 anni di lontananza il dottor Claudio Di Bartolomeo è tornato in politica con idea al fianco di Quagliariello in basso vedete un ponticello tra l'Abruzzo e le Marche Maria Grazia D'Angelo l'avvocato di Alba Adriatica spiega le ragioni della candidatura sequestro di carnevale per il Nassa abiti, maschere e giocattoli importati dalla Cina nel mirino dei Carabinieri false assunzioni in cinque rischiano il processo Alba Adriatica ha chiesto il rinvio a giudizio per un imprenditore un commercialista e tre finti dipendenti accusati di truffa mareggiate il sottosegretario Gava oggi ad Alba Adriatica e Martinsicuro Di Matteo affronteremo l'emergenza entro i primi cento giorni di governo anche gli enti contrari all'attaglio degli alberi siamo in Val Vibrata e il Comitato del Verde Pubblico del Ministero ricorda l'esigenza di ciutelare le piante monumentali in basso due nuove farmacie ad Alba Adriatica un'apertura prevista nella zona ovest e una a Villa Fiore altro mezzo milione per il porto siamo a Giulianova i fondi serviranno per manutenzione messa in sicurezza dopo i danni delle mareggiate addio al mago dell'elettronica il lutto morto ad 88 anni Francesco buon padre andiamo avanti ecco come sarà il nuovo distretto sanitario siamo a Roseto l'anticipazione vedete la cartina due corpi principali per la struttura uno dedicato all'assistenza anziani il secondo ai servizi al cittadino ancora Roseto in basso vedete al via gli interventi sulle buche sul verde pubblico proseguiamo ci spostiamo ad Atri e Silvi Atri caos bollette dell'acqua il sindaco scrive al gestore H Silvi il comune non controlla le menze la commissione sulla riflessione scolastica mai convocata in due anni l'attacco a denunciare il caso ai consiglieri Rocchio e Partipilo dopo aver ricevuto alcune segnalazioni Atri chiesto un consiglio sul commissariato di polizia scusate l'opposizione vuol sapere a che punto è la convenzione per i nuovi locali del presidio di sicurezza siamo a Pineto il vulcanello diventa una risorsa turistica taglio del nastro a Pineto per il geoparco del Cenerone ora visitabile dopo i lavori di riqualificazione e in basso i consiglieri di Edda contro gli sprechi alimentari la giornalista ed esperta presenta Edda Migliori giornalista nostra collega presenta un decalogo di ricette creative proseguiamo siamo arrivati però alle pagine dello sport allora prima di parlare di sport regionale vediamo le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali iniziamo dalla gazzetta dello sport Suso Ringio Champion Gattuso riporterà il Milan lì dove ha fatto la storia lo dice il centrocampista rosso nero spagnolo e poi vuole lasciare il Barça e pensa in Erazzurri Rakitic chiama l'Inter e poi Juve di bala resta la Ioia gli manca solo il gol e poi l'anticipo di campionato di ieri Lazio che ha battuto l'Empoli per 1 a 0 grazie a Caicedo che ci prende gusto scatto Lazio al quarto posto e vedete che proprio grazie alla vittoria di ieri la Lazio ha scavalcato il Milan e si è portata al quarto posto a 38 punti questa sera si giocherà alle 20 e 30 un altro anticipo Chievo-Roma domani Fiorentina-Napoli alle 18 e Parma-Inter alle 20 e 30 domenica tutte le altre partite Bologna-Genua Atalanta-Spal Sampdoria-Frosinone Torino-Udinese Sassolo-Juventus e Milan-Cagliari scusate siamo al Corriere dello Sport Juve-Treno-Europa nessuno nei cinque campionati principali del vecchio continente tiene il ritmo della squadra di Allegri e poi due posti al sole zona champion sta di nuovo e sempre più Roma-Milano per la corsa alla Coppa che garantisce un futuro migliore Lazio-Roma Inter e Milan sono le squadre che lottano per i posti che valgono la qualificazione alla Coppa dei Campioni ma c'è anche l'Atalanta e poi il volo di Inzaghi rigore di Caicedo battuto Lempoli per 1-0 infine tutto sport Superga il 4 maggio ci vuole un miracolo in alto vedete esclusivo ecco i lavori di restauro faremo l'impossibile per il grande Torino e per ricordare proprio la tragedia di Superga siamo a centro pagina Zanolo e Chiesa Tiri Mancini parliamo di due dei giovani più interessanti del nostro campionato Zanolo che milita nella Roma Federico Chiesa figlio d'arte che gioca nella Fiorentina vediamo lo sport a questo punto lo sport regionale partiamo dal quotidiano il centro si parla del Pescara e del dubbio Brugman alla vigilia della gara di domenica a Foggia in preallarme c'è Alessandro Bruno Memushai fa 300 partite in carriera Rossi Occhio Rossoneri senza la penalizzazione sarebbero in alto parla il doppio ex degli Orossi che è stato molti ovviamente tutti lo ricorderanno allenatore del Pescara e anche del Foggia intanto è stata resa nota la data di recupero della gara Lecce-Ascoli che era stata sospesa dopo pochi secondi dall'inizio per l'infortunio a Manuele Scavone la gara che proseguirà il 23 marzo con inizio alle 18 ma proseguirà per modo di dire perché si erano disputati pochi secondi e vediamo proprio da questo specchietto del centro le gare della prossima giornata 23esimo turno Salernitana Benevento che si gioca questa sera alle 21 Cittadella Spezia Cremonese Padova Perugia Palermo Brescia Carpi Foggia Pescara Domenica e poi ancora Livorno Cosenza Verona Crotone Venezia Lecce e riposa Lascoli di Mister Vivarini Siamo la Serie C domani c'è Rimini tante rimonte subite quanti punti buttati dal Teramo in sette gare Diavolo in vantaggio e poi recuperato dagli avversari allo stadio Bonolis stricione dei tifosi contro squadra e società vedete nella foto lo stricione che è stato esposto dai tifosi parliamo anche di eccellenza il Chieti parla il tecnico Lucarelli ora pensiamo ad andare in D dopo la sconfitta nella finale di Coppa il trainer Nero Verde guarda avanti e la Miternina festeggia proprio la vittoria della Coppa Angerone padre e figlio a Miternina il trionfo di una famiglia vedete nella foto Filippo giocatore della Miternina e Vincenzino Angerone tecnico della formazione Aquilana le Abruzzesi di Serie D montani troppe aspettative attorno alla mia vastesa il tecnico Bianco Rosso la società mi ha chiesto la salvezza e centreremo l'obiettivo sette turni infrasettimanali non si sopportano ci vorrebbero rose di giocatori più ampie Traini Avezzano deve essere più concreto il DS ragazzi ho detto che se dovessero ripetersi certe distrazioni inizieremo con le multe in alto parliamo del Francavilla Rachini invita la sua squadra a non distrarsi con l'Agnonese sarà battaglia gara che si giocherà sul neutro di Trivento e poi domenica si disputa anche Real Giulianova Forlì Bolzane è giunta l'ora di far valere la legge del Fadini dice il tecnico della formazione giallorossa e poi Pineto Amauro nuovi equilibri per il Pineto il tecnico cambierà probabilmente qualcosa dopo il passo falso di Matelica a Notaresco Bosco Blando un giovane in ascesa domani si giocherà l'anticipo con la San Maurese vediamo anche il volley di Serie A1 con l'alzatrice marsicana del Brescia di Julio io mia sorella Chiara è una carriera tutta in salita fiera del mio percorso è dura emergere per chi viene dal centro sud lasciamo le pagine dello sport del centro vediamo quelle del messaggero Campagnaro ora pensaci tu affoggia l'argentino tornerà in campo al posto di Gravion squalificato che guaio dopo Brugman si ferma anche Fiorillo ma rumors dicono che i due alla fine il capitano e il portiere dovrebbero essere recuperati in basso il basket vedete un titolo che riguarda gli Sharks Roseto Sherrod ci stiamo prendendo gusto e poi vedete il Teramo lo stricione esposto ieri dai tifosi all'esterno dello stadio i tifosi alzano i toni rispetto per la maglia stricione polemico al Bonolis verso squadra e società firmato da 16 gradoni Lewandowski influenzato domani in casa contro il Rimini potrebbe non scendere in campo al suo posto possibile probabile l'esordio di Gomis la gara è a rischio Teramo Rimini limitazione agli ospiti vedete lo stricione dei tifosi del Teramo tre stagioni di umiliazioni colpa di una società incompetente di una squadra senza mordente chi non ci crede resti a casa rispetto per la maglia questo lo stricione eloquente esposto dai tifosi del Teramo parliamo di serie D Pineto beffato e multato occhio alla Savignanese Bolami va stesse ora non mollare la presa e poi parliamo anche di rugby e di volley rugby Camarano e Serilli in campo contro il Galles Sieco parliamo di volley di serie a due maschile sette giorni di sosta possono costare caro stop per la finale di Coppa Italia può far perdere la magia e chiudiamo con lo sport del quotidiano la città dubbio Lewandowski Polak per la sfida al Rimini portiere alla febbre lo sostituirà Gomis il difensore non si è allenato ma c'è fiducia di recuperarlo vediamo anche in basso l'atletica con una pioggia di medaglia gli italiani indora under 23 under 20 Gran Sasso Terramo protagonista Ori di Gaia Sabatini sui 1500 di Alessia Giulianti nel triplo argento di Ludovica Montanaro nella specialità del peso e poi vedete lo spazio del centro CSI fanno festa le squadre che giocano in casa le squadre del centro sportivo italiano noi siamo giunti alla termine così dell'appuntamento di oggi di venerdì 8 febbraio con Mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa che tornerà come sempre domani puntuale alle 8 io ringrazio Maurizio Dagui in regia ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra rete alle 14 alle 19 alle 23 le tre edizioni del nostro telegiornale ma poi questa sera alle 21 non perdete l'ultimo appuntamento pre-elettorale con Moby Dick la nostra trasmissione condotta da Giovanni Minicozzi per parlare appunto dell'appuntamento di domenica con le elezioni regionali è davvero tutto grazie e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti